ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario o wufert informazioni commerciali titolare acme srl concessionario acme srl confezioni o wufert o spolvere 2,5 kg formulazione ogni 100 g contiene acido icosapentanoico epa 3,0 g acido docosexanoico dh a 2,0 g puffa polinsatured fatti acids 2,0 g lecitina di soia 2,5 g vitamina e dl alfa tocoferolo 2,5 g vitamina a e 672 57800 ui altri acidi grassi qb a 100 g indicazioni grazie all'elevatissima concentrazione di acido icosapentanoico epa acido docosexanoico dh a e acidi grassi polinsaturi vitamina d favorisce la fertilità della fattrice iniziare il trattamento almeno 30 giorni prima della stagione di monta e somministrare quotidianamente fino alla manifestazione estrale posologia miscelare quotidianamente all'abituale alimento della fattrice per facilitare l'assunzione è consigliabile suddividere la dose giornaliera in 2 opi a somministrazioni dosi 150 200 grammi al dia fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato ciao 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 ciao